Grazie Presidente, ringrazio tutti. In termini di diritto per l'Italia, direi che per i giovani italiani, tutto si riassume in una parola che è quella di emancipazione, che per i nostri ragazzi passa principalmente tramite due cardini, quello dell'accesso al mondo del lavoro e quello dell'accesso al diritto alla casa. Purtroppo durante la fase pandemica sono state accentuate delle problematiche che erano grandi e che riguardavano il Paese in particolare in termini di disoccupazione giovanile, ma anche in termini di aumento degli inattivi, dei cosiddetti NIT. Ecco perché stiamo lavorando sul fronte della formazione, che è stato anche richiesto dai ragazzi con sollecitazione rispetto a una consultazione pubblica che abbiamo lanciato relativamente al PNRR, proprio per chiedere loro di partecipare attivamente e di poter ricalibrare quelle che sono le progettualità all'interno del piano. Uno dei principali rilievi che è stato posto è stato proprio quello della formazione e dell'orientamento al mondo del lavoro, motivo per cui stiamo lavorando ad un'importante riforma che riguarda il processo di orientamento scolastico e che prevede principalmente una fase di formazione tramite il racconto delle nuove professionalità all'interno delle scuole per permettere ai ragazzi di capire quali siano le esigenze lavorative. Oggi sappiamo che abbiamo un incrocio domande e offerte che non corrisponde perché abbiamo molte offerte di professionalità tecniche e poche domande in questo senso. Quindi dobbiamo lavorare molto su questo fronte partendo già dalle scuole medie, con particolare attenzione alla scarsa attitudine delle ragazze di scegliere discipline STEM. Per affiancare questa riforma abbiamo anche lanciato una progettualità come Ministero delle Politiche Giovanili, un open doors per permetterci di raccontare le varie professionalità che ci sono all'interno delle principali aziende pubbliche e private italiane, viene trasmessa anche tramite i canali RAI, questo per riuscire a dare un doppio affiancamento. Sul fronte del lavoro proseguono chiaramente le misure di agevolazione e funzionali per i giovani. Dall'altro lato però abbiamo potenziato uno strumento che nel passato ci ha dimostrato aumentare l'indice di occupabilità dei ragazzi di oltre il 50%, che è quello del servizio civile universale e abbiamo deciso di ribilanciarlo su due direttive principali del piano nazionale che sono la transizione digitale e quella ecologica. Appena due giorni fa abbiamo lanciato il bando proprio sul servizio civile digitale che per la prima volta rispetto ai bandi precedenti prevederà anche una certificazione delle competenze sia in termini di digital skills che in termini di soft skills. Accanto a tutto questo riguardo agli inattivi stiamo definendo insieme ai comuni e alle regioni una procedura per il censimento aggiornato. Noi oggi sappiamo di essere tra gli ultimi in classifica ai noi in Europa su questo fronte ma non sappiamo con precisione a che punto abbiamo abbandonato la scuola e a che punto questi ragazzi abbiamo deciso di smettere e addirittura di cercare un lavoro. Per cui con loro costruiremo una strategia per andare a reinserirli nel percorso scolastico e in quello lavorativo. Sul fronte del supporto alla casa è stato anche annunciato dal Presidente del Consiglio e stiamo mettendo appunto una norma che permetta la garanzia di accesso alla prima casa proprio con un mutuo di acquisto. Sul termine impresa invece intendiamo utilizzare quello che è il fondo delle politiche giovanili per costruire delle hub che siano degli incubatori sostanzialmente che permettono di far collaborare dell'associazione di categoria, l'università e gli enti pubblici i ragazzi insieme per riuscire a creare delle start up e la loro capacità imprenditoriale su cui anche qui c'è abbastanza da lavorare. Sul fronte internazionale, mi avvio a conclusione, credo che sia importante migliorare ed ampliare la possibilità di accesso. Programmi come Erasmus Plus e il Corpo Europeo di Solidarietà sono importanti e fondamentali. Avere una maggior mobilità dei giovani permetterebbe effettivamente a tutti di poter avere accesso a programmi di questo genere che sono fondamentali per permettergli di superare dei limiti culturali che a volte si ha se non si riesce a vedere ciò che c'è fuori dal proprio Paese. Grazie.